Un appello agli sbarbati in ascolto che stanno avendo un successo, una popolarità, stanno avendo fama, iniziano ad essere conosciuti. Ne conosco un sacco di influencer, youtuber, start-upari, gente che ad un certo punto imbrocca qualche cosa che sta facendo e boom, iniziano ad essere famosi nel loro settore. La cosa interessante è che non è che tu debba diventare famoso per miliardi di persone, basta che diventi famoso nel settore dei parrucchieri, oppure tra quelli che fanno video di cucina e in quella nicchia sei famoso e tanto basta. E la cosa curiosa è che come diceva Whitney Houston nel documentario, Whitney Houston che non c'è più, non a caso, il problema non sono i soldi, il problema è la fama. Quando uno inizia ad essere famoso, inizia ad essere conosciuto, inizia ad essere visibile in un certo settore, è facile che questa cosa prenda la testa, che cambia, finisce per cambiare le persone. E l'ha riassunta benissimo, meglio di tutti, l'altro giorno Joe Rogan in un'intervista diceva La fama è come un trucco di magia, il trucco di magia funziona sugli altri, ma se tu sei il mago non deve funzionare su di te. Soprattutto perché la fama, la notorietà è proprio un ottovolante, velocissimo, sei su in un attimo e sei giù in un attimo. Hai gente, vi ricordate quelli famosi ai tempi di MySpace? Vi ricordate qualcuno? No, nessuno. Erano famosi, in un certo momento avevi della gente che era, caspita, Nembo Kid, adesso sono spariti, hai il calciatore, fenomenale, e poi sparisce. Se non inquadri nel modo giusto la tua notorietà, ripeto, non hai bisogno di essere famoso per migliori persone, puoi essere anche una notorietà piccola in un settorino. Io ero famoso nel mondo del ping pong italiano, eravamo in dieci, entrando in palestra e mi sentivo, ho capito, un altro. Così almeno ho parlato del ping pong anche in questo video. La devi inquadrare nel modo giusto, se no immaginate uno che fa il calciatore, abituato a giocare ogni domenica di fronte a milioni di persone, sei famosissimo, tutto il mondo è lì, che ti adula, tutti ti vogliono, tutti ti prendono, poi smetti di giocare e boom, cade giù veloce la saracinesca, il buio, viene giù veloce. E tu non sei più abituato, la tua identità era quel personaggio immaginario. Perché un personaggio immaginario proiettato non sei tu. Le persone pensano che Robert Downey Jr. sia Iron Man, ma non è così. Iron Man è un personaggio, lui è un'altra persona, un'altra roba, con le sue casine, le sue debolezze, creperà anche lui, proprio da ricondurlo nel modo giusto. Allora un appello piccolo, sincero, allo zio Monti, agli sbarbatti in ascolto, che per fortuna è un problema, un happy problem come si dice qua in Inghilterra, è un happy problem avere successo, fama, notorietà e va gestito bene. Se no ti bruci, ti scotti e fa male, perché poi il tonfo picchia di brutto. E ogni volta che uno ha una visibilità, una popolarità, in un certo momento della sua carriera, conviene fermarsi spesso e chiedersi ma questo trucco che sto facendo, convince solo gli altri, ci credono solo gli altri? O mi sono convinto anch'io di essere in grado di far sparire la tigre dalla gabbia?